Grazie a tutti. Quest'oggi sono presenti, provenienti da diversi paesi, il pellegrinaggio dell'Istituto di Cristo Redentore Missionari Dentes, Suore dello Spirito Santo, Suore Benedettine della Divina Providenza, Movimento Studentesco del Tamil nel mondo, dall'Italia, gruppi di fedeli della parrocchia San Martino in Tribano, Santa Maria di Lourdes in Milano, San Lorenzo in Cavour, Santi Crisante, Santi Crisante d'Aria, Santa Maria della Salute in Roma, Santa Santa Maria della Fontanella in Canistro, San Michele in Pescocanale, San Giacomo in Valva, San Francesco d'Assisi in Messina. La Consulta Nazionale Antiusura, l'Associazione Curale Medica, gruppo Famiglia con Figli in Cielo di Pescara, Fraternità dei Laici delle Suore del Preziosissimo Sangue, Casa di Cura Ars Medica di Roma, Casa di Riposo San Francesco de Geronimo di Grottaglie, Banda Musicale Setaccioli e Associazione Fratelli del Cristo Risorto di Tarquinia con il Vescovo Carlo Kenis. Grazie a tutti. Coppie di sposi novelli. Alla fine dell'udienza il Santo Padre intonerà in latino il canto del Padre Nostro. Le parole le trovate dietro nel retro del biglietto dell'udienza. Poi il Santo Padre impartirà la sua benedizione a tutti i presenti. Egli la estende a tutte le persone care, soprattutto ai bambini, agli ammalati, ai sofferenti. Egli inoltre intende benedire i rosari e gli oggetti di devozione che ognuno porta con sé. Egli un cordiale benvenuto ai membri dell'Istituto di Cristo Redentore e missionari identi. Ti ricordo il 50esimo anniversario di Fondazione e prego perché continuino con grande generosità ad annunciare Gesù Cristo, Salvatore del mondo. Salute i rappresentanti della consulta nazionale anti-usura. E mentre vi ringrazio per l'importante e apprezzata opera che svolgono accanto alle vittime di tale fraccello sociale, auspico che vi sia parte di tutti un rinnovato impegno per contrastare efficacemente il fenomeno devastante dell'usura e dell'estorsione che costituisce una umiliante scavitù, non neanche anche da parte dello Stato, un adeguato aiuto e sostegno alle famiglie disagiate e in difficoltà che trovano il coraggio di denunciare coloro che approfittano della loro spesso tragica condizione. Saluto poi gli esponenti dell'Associazione Interparlamentare Cultura e dell'Etica, la cui presenza vi offre l'opportunità di sottolineare l'importanza dei valori etici e morali nella politica. Saluto ora con affetto i fedeli apruzzesi provenienti da Civitella, Rovetto, Camistro e Pesco Canale. Rivelgo infine un cordiale saluto ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Molti di voi cari amici avranno in questi mesi la possibilità di trascorrere un periodo di vacanze ed auguro che per tutti sia sereno e proficuo. Ma ci sono anche molti che per diverse ragioni non potranno usufogliere delle ferie. Ciò da voi cari fratelli e sorelle che non vi manchino la solidarietà e la vicinanza delle persone care. Un pensiero speciale rivolgo infine ai giovani, che in questi giorni stanno sostenendo gli esami e la sicuro per ciascuno un ricordo nella preghiera. Su tutti i veli come sono il Signore, che ora invochiamo con il canto del Pata Nostra. 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 delle persone e che quando formaron le redi, decidono elaborare e mettere il nome. Questa è la provincia di San Martino, Tarapoto, Bande di Chilcayo e Morales, sono tre distritos in la regione San Martino, in la selva di Perù. E loro si denominaron Red de Promotoras Defensoras contra la Violenza Familiar, construyendo hogares sin violenza. Aquí ustedes pueden ver una dinámica que están realizando. Y en Independencia es el programa educativo construyendo juntos familias saludables, promotoras y promotores por un futuro sin violenza. El conjunto de personas que ven a su lado derecho, fue el grupo que de alguna manera fue presentado públicamente a las instituciones y a las organizaciones para su reconocimiento del trabajo preventivo y educativo que hacen en la comunidad. Y a su lado izquierdo ven el grupo de hombres comprometidos con la no violenza. La estrategia comunicativa ciudadana denominada campaña.